Una notizia terribile, di quelle che lasciano senza parole e sconvolgono profondamente, è stata riportata dai principali siti di notizie e si è diffusa rapidamente in rete, lasciando molti utenti scioccati. Questa notizia ha colpito il cuore di tanti, portando a un'inondazione di messaggi di cordoglio per i familiari del defunto. Quando una figura famosa ci lascia, le notizie dei siti locali si propagano a livello nazionale e le persone esprimono il loro affetto con commenti commoventi, cercando di confortare virtualmente i familiari colpiti da questa perdita. La morte di Tonino Zorzi è stata un fulmine a ciel sereno per l'intera Italia, da nord a sud. La sua scomparsa è stata inattesa, eppure la vita è fatta anche di momenti come questi, che nessuno può fermare. Tonino Zorzi, noto come il Paron, è stato uno dei allenatori di pallacanestro più amati in Italia, una figura iconica nel mondo di questo sport. Aveva 88 anni. Nella sua carriera, Zorzi ha giocato per la pallacanestro varese dal 1954 al 1962, contribuendo a vincere uno scudetto nel 1960. Il suo legame con la squadra è stato profondo, e ha ottenuto il riconoscimento come miglior giocatore nella storia della pallacanestro varese. Ha rappresentato l'Italia in 22 partite internazionali, prendendo parte agli europei del 1953 e del 1965. Dopo il ritiro come giocatore a soli 27 anni, Zorzi è diventato allenatore, ottenendo successi significativi. Ha guidato la partenope Napoli alla vittoria della Coppa delle Coppe nel 1970 e ha ottenuto ben cinque promozioni dalla Serie A2 alla Serie A1 con diverse squadre, tra cui la Raiar Venezia Mestre, Viola Reggio Calabria e pallacanestro Pavia. Tonino Zorzi ci ha lasciati dopo una lunga malattia. Pochi minuti dopo l'annuncio della sua scomparsa, i messaggi di Cordoglio hanno cominciato ad arrivare, testimoniando l'affetto e il rispetto che aveva guadagnato nel corso della sua straordinaria carriera.